Bella ragazzi sono DarkHatch e benvenuti in questo primo vlog che pubblico sul canale e vi dico subito che non sarà molto lungo perchè devo dirvi due cose ma quelle due cose lì sono molto importanti allora questo qua da come avrete letto dal titolo è il ringraziamento dei 2000 iscritti che ho raggiunto ieri 19 novembre martedì e sono qui diciamo per ringraziarvi a tutti quanti questo doveva essere per la verità un ringraziamento per i 1000 iscritti però per chi mi segue già da come avete potuto vedere in questi tre giorni sono stati molto movimentati e diciamo che non ce l'ho fatta a portarvelo perchè fate conto che ero a 970 iscritti in un giorno cioè la mattina dopo quando mi sono svegliato da 970 sono andato a 1500 quindi non mi sembrava neanche più sensato fare un ringraziamento per i 1000 iscritti se ce ne erano già 500 in più ovviamente tutto questo è grazie a un amico che dopo nei ringraziamenti ne parlerò però adesso diciamo che vi dico le due cose allora innanzitutto abbiamo raggiunto insieme ieri martedì il traguardo dei 2000 iscritti che davvero sono tantissimi non me lo sarei mai aspettato già i 1000 sembravano un traguardo quasi impossibile e poi sono arrivato in 2000 in così poco tempo che davvero sono rimasto senza parole e vi ringrazio tutti quanti senza saltare nessuno comunque perchè alla fine anche voi mi sostenete condividete i miei video e mettete mi caci e così via infatti vi ringrazio davvero poi il video di Omieto che se non sbaglio cioè adesso è 8000 visualizzazioni in un giorno ne ha fatte 7000 se non sbaglio e adesso è 900 mi piace cioè cose che non ho mai visto io diciamo che ci sono anche rimasti perché mi sono sorpreso perché non me lo sarei mai aspettato tutto questo ovviamente anche grazie a voi grazie all'aiuto che mi state dando e niente passando diciamo ai ringraziamenti volevo ringraziare in primis diciamo Gab che lui sono su youtube da tre mesi in questi tre mesi diciamo che da come potete vedere anche sul canale è stato sempre presente cioè non fisicamente neanche ha tipo commentato a me se mi piace qualche volta qualche mio video e cioè a me ha aiutato moltissimo perché mi ha fatto conoscere alla community italiana cioè a voi davvero mi ha aiutato molto poi cioè diciamo che lui è il l'ho messo per primo perché è più importante secondo me la persona che mi ha aiutato di più poi ovviamente anche ai se la godiamo che diciamo che tre mesi fa quando ho aperto il canale lui è stato uno dei primi ad iscriversi ad avermi dato una mano davvero perché diciamo che mi ha dato una mano cioè subito dall'inizio mi ha dato una mano e mi sosteneva e così poi c'è ancora lo fanno comunque poi ci tenevo a ringraziare e nico 8492 che è davvero un grande youtuber sotto in descrizione comunque lascerò il link di tutti i loro canali quindi di Gabbo e di Ice però Gabbo c'è anche se metto il suo canale credo che tutti già lo conosciate e Ice e nico 8492 e comunque cosa che sto dicendo ah sì di nico e nico l'ho conosciuto qualche mese fa in un suo video e da lì diciamo che ho cominciato un po' a seguirlo e poi siamo diventati diciamo amici virtualmente non realmente perché poi lui non è di queste parti cioè più o meno diciamo che siamo vicini però non così tanto e niente ragazzi i ringraziamenti ci sono a parte queste tre persone in particolare che ci tenevo a ringraziare ho ringraziato tutti quanti voi che davvero mi state dando una mano enorme enorme e speriamo di raggiungere traguardi ancora più alti anche se diciamo che non è molto facile però come dicono in un film se ti ci metti di impegno puoi raggiungere qualsiasi risultato e niente ragazzi spero che il video vi sia piaciuto noi ci becchiamo alla prossima sperando con un'historia su YouTube se no con qualche gameplay di Ghost o GTA ditemi non so scrivete quel che vi pare nei commenti così non abbassiamo il grado di coinvolgimento che sta distruggendo davvero tutto ultimamente e niente ragazzi da D'Arcaccio è tutto bella grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti